Ciao ragazzi! Oggi giochiamo con Tappalino Pompieri! Ah, non c'è la porta! Questo va incastrato! Mamma mia ragazzi che bello! Ah, noi, noi! Grampicchiamo! Aspetta, vado a andare! Faccio atteso! E mi va che bello! Poi facciamo... Va fuori! Wow, bisogno! Devo spegnere il fuoco! Csssss, cssss, csss, css, css, aaaah! Come faccio? Asensore! Pasquenata! l'incendio, l'incendio, scopito, ma che si fai la seduta? andiamo a spendere il fuoco, 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 intanto io, Darno, ma che te mi ho detto? andiamo a spendere il fuoco ma come faccio con il mickey mouse? adesso ho il telefonino, basta il gatto? il gatto? ma il gatto è qui, ma che strano aspetta, lasciami, dormi, dormi è stato il mio, è stato il gatto è stato il gatto gatto? no, è stato il gatto è il telefonino il gatto cosa fanno? è il gatto sull'ascensore è il gatto sull'ascensore no, è in alto è in altissimo in cima guardate ragazzi anche da dietro ciao 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 ragazzi ci vediamo domani con un altro gioco non dimenticate di iscrivervi al mio canale ciao 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 Mamma mia!